Oggi con la pubblicazione della delibera di aggiudicazione della progettualità tecnica ed economica sicuramente quello che stiamo facendo è un passo importante, è sicuramente un punto fermo. Da questo punto fermo passano i 30-35 giorni di attesa, di stand still, entro il quale periodo chi è interessato può fare un ricorso. Se passa questo mese indenne da ricorsi potremo procedere alla firma del contratto e quindi dare avvio alla vera e propria attività di progettazione. Eccola la delibera a cui fa riferimento il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dalben. Con questa firma la costruzione del nuovo ospedale fa un sostanziale passo in avanti. Entro il 2030, sì, la speranza è sì, incrociamo le dita. Dobbiamo correre su questo, è importante, dare a Padova questa risposta. La prima pietra potrebbe arrivare addirittura fra un anno e mezzo. Noi abbiamo detto entro il 2024, speriamo di riuscirsi. Erano sette i raggruppamenti di studi tecnici che partecipavano al bando. Una commissione appositamente nominata ha vagliato i progetti scegliendo quello della Politecnica, Ingegneria e Architettura di Modena che ha proposto un progetto risparmiando milioni di euro. Un ribasso importante, assegniamo rispetto ai quattro e mezzo previsti a due milioni e due e quindi un ribasso del circa il 48% direi sicuramente importante. Anche il presidente della regione, Luca Zaia, ha salutato positivamente questo passo in avanti. Come regione, ha detto il governatore, abbiamo fatto veramente tutto il possibile per tradurre in realtà questo progetto. Ma chiede a tutti un ultimo sforzo, pancia a terra e pedalare per arrivare al più presto alla posa della prima pietra. Nel frattempo si lavora la cremente anche per la nuova pediatria nell'area del Giustinianeo. La pediatria sta andando avanti direi in maniera regolare, quindi bene. Stiamo nella fase dello scavo archeologico che appunto aveva questi centinaio di giorni di durata ma vedo che l'attività sta procedendo alla cremente quindi speriamo anche di contrarre questo periodo.